Qual è l'iniziativa che la Piazza Comune ha promosso? Siamo in un quartiere storico, tra l'altro il mio quartiere dove sono nato e cresciuto, un quartiere popolare, un quartiere di cui troppo spesso in questi anni si è parlato solo in negatività. E allora in questo quartiere la Piazza Comune, insieme a Spezia Dinamica, due associazioni cittadine, civiche, non legate ai partiti, apre uno spazio per gli studenti universitari per permettere loro di studiare il sabato e la domenica, non ci sono altri luoghi, la domenica dove è possibile farlo, di creare comunità, di stare assieme, di farlo gratuitamente e credo che sia un piccolo segnale di crescita per l'intera città. Come funziona questo luogo? Allora, l'aula studio aperta da Spezia Dinamica, in collaborazione con l'Associazione della Piazza Comune, è aperta il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 e 30 alle 18 per tutti gli studenti che cercano uno spazio dove studiare il weekend. Come viene organizzato? Lo spazio studio è aperto a chiunque voglia usufruirne nei weekend, è attrezzato con wifi, prese per la corrente elettrica, le macchinette per il caffè, è completamente gratuito, a disposizione di chiunque abbia bisogno di un luogo di studio durante il weekend. È importante che il tutto non sia mai umano.